Benvenuti in questo mio nuovo video, andiamo a vedere dove si trova il Fortbyte numero 100 Si trova esattamente qui, guardate, eccolo qua, adesso lo prendiamo e abbiamo finito Fortbyte numero 100 preso, comunque questo video finisce qua, spero che ti sia piaciuto Se è così, iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati su Fortnite Lasciami un mi piace per supportarmi, commenti e condividi Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzuoli